Dopo mesi di incertezze, un protocollo d'intesa tra il Comune di Battipaia e il Consorzio ASI farà luce sull'intera faccenda dell'area industriale. Il Presidente del Consorzio Antonio Visconti ha incontrato la Sindaca Cecilia Francese e gli Assessori Stefania Vecchio e Francesca Napoli, con cui ha buttato giù una bozza del documento. Visconti si impegna, a nome del Consorzio, a esaminare tutte le pratiche inoltrate dal Comune su permessi rilasciate finora senza il nulla osta consortile e definire un modulo che possa velocizzare le pratiche di insediamento. In ballo ci sono anche il nuovo PUC e la pianificazione della zona economica speciale. Notificati anche gli avvisi di conclusione delle indagini ai dirigenti comunali vittime di quest'impasse burocratica. Notificati